Buongiorno, sono l'ingegner Mastro Mauro e vi do il benvenuto a questo terzo appuntamento della serie dei webinar dedicati alla descrizione di casi, esempi pratici in cui gli interventi di riqualificazione energetica possono beneficiare delle detrazioni fiscali nella misura del 110% e quindi al cosiddetto super bonus previsto dal decreto rilancio. In questo appuntamento andiamo a vedere una casistica specifica e cioè la situazione in cui gli interventi di riqualificazione energetica configurino anche degli ampliamenti e quindi andremo a sostanzialmente vedere quelle che sono le opzioni che ci mette a disposizione il software per considerare chiaramente la parte di ampliamento all'interno del calcolo energetico nel contesto dell'edificio che rappresenta il post intervento, ma discluderlo in quello che invece è il calcolo dell'indice che va a definire l'ape cosiddetto l'ape convenzionale, cioè l'ape che deve essere fornito a Enea per la dimostrazione del salto di classe in almeno due classi energetiche. Quindi nell'ambito di questo webinar odierno, dopo questa mia presentazione iniziale, avremo quindi una prima parte svolta dall'ingegner Yamanino che vi illustrerà l'edificio nelle condizioni ante e vi descriverà alcuni aspetti legati alla compilazione degli elementi dell'archivio strutture, dell'archivio finestre, dell'archivio pompe di calore. Verrà quindi avvicendato dal collega all'ingegnere Borgardo che invece vi mostrerà l'edificio quindi nella condizione post e quindi perverrà poi alla definizione di quello che sono sia gli interventi e la produzione della documentazione comprovante, quindi il salto di classe conseguito con l'applicazione e l'implementazione degli interventi. Quindi il focus dell'intero intervento, dell'intera illustrazione e diciamo focalizzato sulla presenza quindi all'interno dei dati generali di una zona riscaldata dell'opzione includi in super bonus. Ecco, precisiamo che quindi questa opzione è sempre posta in default e questo significa che fondamentalmente tutte le zone vengono considerate non solo a livello di calcolo energetico ma anche nell'ambito della definizione dell'indice dell'APE convenzionale. Quando però nella condizione post intervento quindi si attua un ampliamento, i locali che costituiscono l'ampliamento dovranno essere riuniti sotto una o più zone impiantistiche in cui questa opzione andrà disabilitata. Precisiamo, ve lo ribadirà il collega, questo non esclude la zona dall'ambito del calcolo energetico dell'edificio in condizioni post, ma semplicemente eviterà che questa zona venga annoverata nell'ambito ad esempio del calcolo della superficie utile dell'APE convenzionale in modo da salvaguardare il confronto dell'indice dell'APE convenzionale tra condizione ante e condizione post. Quindi a livello di calcolo energetico anche le zone di ampliamento chiaramente contribuiranno e verranno considerate sia per le quali ci sia un impianto dedicato, sia che vengano servite da un'estensione dell'impianto preesistente, verranno comunque considerate a livello energetico e quindi contribuiranno a determinare i fabbisogni energetici dell'edificio in condizione post. Ma nella definizione dell'indice invece ne verranno escusi proprio perché il confronto ante e post deve essere fatto a parità di condizioni. Detto questo, quindi chiaramente nell'abito di un'unità immobiliare vi dovranno essere più zone, quindi ma non deve capitare che tutte le zone siano escluse perché automaticamente questo implica che nell'indice dell'APE convenzionale non venga più considerata l'intera unità immobiliare. Quindi questo implica che deve essere una molteplicità di zone, alcune rappresentano i corpi preesistenti dell'immobile e poi ci sarà una zona dedicata all'ampliamento per la quale escluderete l'inclusione nel Superbonus. Prima di lasciare la parola ai colleghi, io vi mostro già in anteprima questa che vedete qui è la release 3.0 che è in fase di predisposizione, in fase di test e che verrà rilasciata nella prossima settimana e quindi troverà poi ampio spazio nella descrizione che faremo con il webinar previsto per venerdì prossimo. Vi anticipo però alcuni contenuti importanti perché questa release potenzia innanzitutto ulteriormente quelle che sono le funzionalità del metodo semplificato di analisi nell'ambito della diagnosi energetica perché dal lato dell'involucro vi permetterà per quel che riguarda i serramenti di considerare anche la sostituzione del cassonetto e la variazione del ponte termico, quindi questa che prima era una prerogativa, un'esclusiva del metodo analitico ora verrà invece introdotta anche nel metodo semplificato, quindi questo rientra in un indirizzo, in un percorso che porterà sostanzialmente il metodo semplificato ad avere le stesse funzionalità che fondamentalmente oggi riguardano più che altro il metodo analitico, quindi questo lo renderà al pari in termini di funzionalità. L'altra novità sostanziale sarà la possibilità, quindi sempre nel solco di questo processo, sarà possibile effettuare la sostituzione dell'intera centrale termica, quindi vedete ora che almeno col prossimo aggiornamento avrete due tab, uno è la sostituzione dei singoli componenti di centrale termica che equivale alla situazione attuale, cioè voi potete fare sostituzioni puntuali, quindi definire ad esempio la sostituzione del generatore, piuttosto una nuova installazione o sostituzione di impianto solare termico e interventi a livello del sistema di distribuzione. Con l'aggiornamento invece andremo a procedere praticamente alla sostituzione globale della centrale termica, ve lo mostro in dettaglio adesso brevemente nel file successivo. Qui invece ho l'occasione invece di farvi vedere in antiprima quello che sarà il nuovo ordinamento delle relazioni. Quindi come sapete dal 27 ottobre è attivo il portale di Enea che permette quindi anche di presentare la documentazione relativa al super bonus. Documentazione che sappiamo consta degli app convenzionali pre e post edificio e della relazione di asseverazione dei requisiti. Attualmente per l'asseverazione dei requisiti quindi nell'attuale aggiornamento viene utilizzata una relazione che ricalca fondamentalmente quella che è la relazione tecnica di legge 10. Ma la relazione che chiaramente non è destinata alla consegna ad esempio presso i comuni, presso gli uffici tecnici dei comuni. Ma è una guida alla compilazione. Vi ricordo che l'asseverazione viene fatta in maniera telematica quindi attraverso la compilazione telematica. Ecco con l'aggiornamento 3.0 avrete in sostanza un formato che riproduce e quella che vedete qui con l'opzione asseverazione di super bonus che riproduce di fatto quello che è lo schema di compilazione che troverete all'interno del sito. Quindi avrete lo stesso ordine con la stessa logica che viene adottata all'interno del portale. Quindi si inizia con la dichiarazione sostitutiva di notorietà ma poi avrete quindi l'elenco di quelli che sono gli interventi trainanti e i dati che vengono richiesti per ciascun intervento. Chiaramente tanto per gli interventi trainanti parte in volo, parte in piantistica quindi il software raccoglie tutti i dati che sono stati inseriti a livello di input e ve li riporta secondo chiaramente quelle che sono le richieste del portale. E quindi questo viene fatto poi sia a livello di interventi trainanti che trainati e ripeto sia per gli aspetti che riguardano l'involucro che i vari generatori che verranno eventualmente sostituiti. Per quel che riguarda l'APE convenzionale quindi nella condizione post ora avrete la versione pressoché definitiva dell'APE convenzionale quindi abbiamo ulteriormente marcato quelli che sono gli elementi che non vengono richiesti in sede di definizione dell'APE convenzionale. Vi ricordo che l'APE convenzionale è un documento che consente di valutare il salto di classe richiesto per l'asseverazione del super bonus ma non ha altre finalità. Quindi il numero di informazioni richieste è decisamente ridotto rispetto a quelle che solitamente riguardano un'APE invece per singola unità mobiliare richiesto dal decreto requisiti minimi. Qui vedete già la possibilità di esportare l'XML quindi il portale oltre a richiedere il documento in formato PDF richiederà poi di produrre un apposito xml che è appositamente distinto da quello regionale che chiaramente verrà accettato solo esclusivamente dal portale Enea. L'altra novità importante sempre dell'aggiornamento 3.0 è che direttamente in questa maschera accanto all'APE convenzionale sarà possibile predisporre già l'APE per singola unità immobiliare in questo caso abbiamo un'unità immobiliare singola quindi coincide con quello poi di fatto convenzionale ma verrà prodotto per ciascuna unità immobiliare secondo invece i soliti criteri quindi previsti dai portali regionali. Quindi in automatico sulla base della definizione degli interventi di riqualificazione quindi nell'ambito dell'edificio post il software sarà in grado di produrvi quello che è poi l'APE che sarà l'APE che verrà presentato dopo l'effettuazione dei lavori e che chiaramente verrà presentato dal certificatore energetico quindi non sarà più questo un'operazione a carico del progettista ma torna a essere quindi il certificatore che svolgerà nuovamente il suo ruolo consueto. Quindi automaticamente vedete tramite questo switch il software commuta tra la versione APE convenzionale quindi per Enea e APE invece classico per i portali regionali. Vi ricordo alcuni particolari sempre per quel che riguarda la definizione degli APE che c'è la funzione campi editabili che vi permette di eventualmente modificare già a video i campi che sono disponibili alla modifica e all'editing all'interno dell'APE stesso e la stessa facoltà la avete in fase di stampa quando quindi andate a attivare l'esportazione PDF quando attivate questa specifica opzione Export Editing Fields to Acroforms. Attivando questa opzione i campi che vi ho visto prima e niente prima saranno modificabili anche all'interno del PDF in modo tale che se avete bisogno di modificare anagrafiche quindi chiaramente tutti i dati che non siano strettamente di calcolo potete farlo anche dopo la preparazione e quindi la produzione del PDF stesso. Ok, detto questo vi mostro quindi come vi avevo promesso ecco una particolarità quindi con il riordino delle stampe quindi ora è evidente la distinzione tra il documento che deve essere consegnato al portale NEA che è l'asseverazione rispetto invece a quella che è la classica e tradizionale relazione tecnica questa è la relazione tecnica di legge 10 canonica quella fatta secondo i criteri del decreto requisiti minimi e che risponde direttamente al decreto quindi non ci sarà più ecco questa sovrapposizione useremo esclusivamente il termine relazione tecnica per riferirci esclusivamente alla relazione che va depositata vi ricordo al comune sede dell'immobile e che va fatta quindi con i criteri del decreto requisiti minimi quindi qui ci saranno ovviamente valori limite di trasmittanza diversi verifiche compressive quindi in termini di trasmittanze medie e compressive dei ponti termici e questa automaticamente potrà essere fatta quindi nel contesto sempre dell'analisi semplificata per la condizione posta quindi come promesso vi dicevo nell'ambito quindi del metodo semplificato sempre a partire dall'aggiornamento 3.0 quindi nel momento che mi sposto all'interno della scheda sostituzione centrale termica posso quindi innanzitutto caricare la centrale termica esistente qui mi viene data questa opportunità perché non ho ancora fatto nessun intervento a livello di sostituzione di componenti centrali termici quindi le due funzionalità saranno mutuamente esclusenti ovvero se opero su singoli componenti automaticamente mi verrà inibita la possibilità di invece caricare l'intera centrale o viceversa perché chiaramente i due interventi non devono andarsi a sovrapporre quindi nel momento che scelgo invece la sostituzione dell'intera centrale termica come farei ad esempio nel metodo analitico mi viene quindi consentito di entrare all'interno della maschera di configurazione delle centrali termiche e quindi qui procedere alla creazione della mia nuova centrale che chiaramente presenterà le caratteristiche relative all'intervento di riqualificazione come verrà riconosciuta questa centrale? perché c'è un'opzione particolare sostituisce centrale esistente quindi il software non appena vede questa opzione permetterà poi di chiaramente andando a compilare tutti i vari componenti inserire impianti, zone, eccetera mi permetterà di ridefinire completamente la mia centrale termica così come si fa solitamente nell'ambito di un file post poi chiaramente questa centrale potrà essere associata da qui in poi, vi dicevo, saranno inibiti tutti gli altri interventi che possono essere fatti nell'ambito della sostituzione dei componenti di centrale termica ok, questo diciamo in anteprima quindi in estrema sintesi avremo modo quindi innanzitutto avrete la prossima settimana di giustizioni questo aggiornamento ma soprattutto con il prossimo webinar andremo a dettagliare quindi ad approfondire queste nuove funzionalità ok, diciamo ho concluso quindi questa parte di presentazione è anteprima e posso quindi a questo punto lasciare la parola al collega l'ingegnere Giammarino che darà inizio alla risurazione del caso oggetto del webinar odierno benissimo, allora inizierò nel descrivervi l'edificio anti-intervento allora questo edificio io lo faccio solo vedere come sistema edificio in pianto accendo tutti i piani così vi faccio capire allora qui noi abbiamo una villetta che è poi quella che sostanzialmente avete visto nel primo webinar dove c'è un piano sottotetto questo piano sottotetto nella prima casistica verrà trasformato dal mio collega da non riscaldato a riscaldato con aggiunta di lucernai e nella seconda casistica invece ci sarà una demolizione proprio completa di questo sottotetto con sopraelevazione di questo piano e costruzione di un altro sottotetto non riscaldato quindi questi sono gli interventi che si andranno ad attuare dal punto di vista impiantistico si partirà dall'impianto che era già stato descritto nel primo webinar un impianto semplice con un impianto di riscaldamento idronico e acqua calda sanitaria con una caldaia non a condensazione e con un serbatoide accumulo sull'acqua calda sanitaria quindi sostanzialmente questo è l'impianto preesistente diciamo benissimo per quanto riguarda adesso vi mostrerò alcune peculiarità che non ho mostrato negli altri webinar in modo tale che possiamo vedere anche le ulteriori potenzialità del software cominciamo sull'archivio delle strutture vi farò vedere come si fa a creare una struttura da zero quindi in sostanza io vado qui nel diciamo nell'archivio di progetto vado a selezionare il tasto nuovo gli vado a dare un nome di parete dopodiché questa struttura parete io ho alcune cose importanti che dovrò definire innanzitutto il tipo di parete perché se è una parete esterna avrò un determinato coefficiente eliminare esterno se invece non è una parete esterna ma è ad esempio una parete interna ovviamente il coefficiente eliminare esterno cambia quindi questo è importante per proprio il calcolo proprio vero e proprio della trasmittanza della parete stessa dopodiché abbiamo questo è il colore che voi volete mostrare nell'input grafico altre cose importanti sono ad esempio se far verificare o meno questa struttura nel senso che se voi avete un edificio dove andate a fare una come si dice una ristrutturazione parziale dell'edificio allora ci sono strutture nuove che andate a creare invece strutture esistenti che non andate a toccare chiaramente nella struttura nuova metterete verificare nella struttura esistente metterete non verificare questo comporta tutta una serie di verifiche che si assoggettano a questa scelta che voi avete fatto nell'archivio strutturo quindi è molto importante questa cosa altra peculiarità se voi volete mettere un incremento di sicurezza questo è permesso sia nelle strutture che nella zona impiantistica un incremento di sicurezza che vi va sostanzialmente a dare una sicurezza in più sul calcolo delle trasmittanze e sul calcolo finale delle dispersioni sempre però io sto parlando di dispersione non calcolo energetico perché nel calcolo energetico non è ammesso nessun tipo di incremento di sicurezza e voi potete imporre qui una percentuale di incremento della trasmittanza benissimo vediamo adesso come si fa a comporre una struttura allora si parte dalla prima riga dal lato interno e quindi si va a costruire inserendo i vari strati ecco l'archivio materiale voi lo avete già in anteprima in questa maschera dove potete prelevare dall'archivio MC4 che contiene una miriade di diciamo di materiali ovviamente questi sono messi sotto categorie specifiche oppure se avete già il materiale come in questo caso già nell'archivio vostro archivio del progetto voi potete direttamente fare uno spostamento voi cliccate il materiale e lo spostate mettete lo spessore poi passiamo a inserire il mattone forato da 12 in questo caso voi vedete che lo spessore io non l'ho dovuto mettere perché questo è stato inserito come materiale come conduttanza la conduttanza quindi richiede anche la definizione non solo della conduttanza ma anche dello spessore per cui lo spessore è prefissato e non è modificabile vedete poi andiamo ad inserire l'intercapetine d'aria questa qui mettiamo 13 centimetri andiamo ad inserire di nuovo il mattone forato e poi andiamo ad inserire in ultimo l'indono gasterno sempre con uno spessore 1,5 a questo punto voi vedete che il calcolo effetto già la trasmittanza il calcolo della trasmittanza ingrementato come sicurezza e quindi voi avete già il risultato voi con applica poi salvate la maschera la maschera successiva è quella del calcolo della condenza della condenza allora per questo calcolo voi dovete definire l'umidità relativa interna tramite questo tasto tramite la uni EN ISO 13 788 andate a definire la tipologia di edificio in questo caso siamo su alloggi con basso indice di affollamento faccio il calcolo questa è l'umidità relativa che viene considerata internamente se voi avete un controllo di umidità che vi porta a una costanza diciamo di questo valore dell'umidità allora voi lo fissate ad esempio se avete degli impianti a climatizzazione e che quindi andate a fissare l'umidità relativa interna allora lo potete fissare nel caso non avete un impianto di controllo non lo dovete fissare a questo punto voi caricate i dati dalla località e lui e poi cosa succede che poi dovete andare a fare una controllo delle verifiche effettuate su questa maschera dove potete visionare la valutazione sulla condensa la massa superficiale dove è previsto trasmittanza quindi se è verificato o meno è il come si dice la trasmittanza termica periodica benissimo detto questo adesso andiamo a vedere quello che è invece l'archivio dei materiali allora l'archivio dei materiali scusate ho schiacciato l'esposizione l'archivio dei materiali eccolo qui che è quello che ho utilizzato appunto per formare le varie stratigrafie andiamo ad esempio su una categoria ben precisa facciamo una copia questo lo chiamiamo prova chiediamo un codice diverso per esempio due qual è la quale sono i dati importanti che bisogna considerare per i materiali innanzitutto il tipo di materiale se è un intonaco bisogna dirglielo perché bisogna dirglielo perché nella valutazione della massa superficiale gli intonaci devono essere esclusi dal calcolo per cui in tal caso se sono intonaci bisogna dirglielo il tipo di spessore se io metto variabile io posso mettere la conducibilità con l'eventuale aumento di sicurezza previsto se invece io ho un materiale che è configurato come una conduttanza ad esempio come può essere un mattone un mattone forato allora non gli dico variabile gli dico fisso e gli vado ad inserire la conduttanza e lo spessore del materiale ecco perché quando io ho inserito il mattone c'era già lo spessore inserito perché ovviamente questi due dati sono considerati entrambi diciamo oltre a questo voi avete altri dati che sono il mu il permeabilità al vapore poi densità capacità termica e questi questi diciamo sono i dati fondamentali che vengono richiesti nel come materiale è chiaro che poi voi i materiali voi qui ne avete un'infinità per cui voi potete anche pescarli dall'archivio dei materiali e potete utilizzare quelli potete anche caricarli questi materiali nel vostro archivio apportare modifiche insomma voi siete liberi di fare quello che meglio credete diciamo andiamo adesso nell'archivio dei ponti termici l'archivio dei ponti di gemmi voi vi ricordate che io avevo fatto vedere nella prima versione del webinar c'era l'inserimento di questa tipologia di ponte termico quella intersezione parete pavimento interpiano adesso io creerò un'altra diciamo un'altra un altro ponte termico che è il ponte termico parete copertura che questo dove questo ponte termico io non lo faccio con gli elementi finiti che visto che ve l'ho fatto già vedere lo faccio con il calcolo d'abbago che vi ricordo utilizzare una metodologia secondo il Politecnico di Milano che è una metodologia perfettamente ammessa dal decreto requisiti minimio diciamo e quindi cosa succede che voi per quanto riguarda il cappa lineare voi potreste calcolarlo anche in questa modalità la categoria si imbosta copertura per quanto riguarda invece la tipologia andiamo a pescare parete non isolata con copertura non isolare e trave non isolata perché qua siamo nella situazione ante dove tutto non è isolato a questo punto qui il software richiede la definizione della parete esterna io la carico e in automatico mi ritrovo il calcolo dei coefficienti come si dice dei cappa lineari l'unica differenza che poi non è da poco tra un calcolo agli elementi finiti innanzitutto agli elementi finiti sicuramente è un calcolo molto molto più preciso e gli elementi finiti vi permette di fare una valutazione anche della come si dice della temperatura interna temperatura superficiale minima con la quale voi andate a verificare la come si dice la muffa la formazione della muffa di fatti qua voi avete che c'è la verifica appunto della formazione della muffa se voi invece utilizzate una metodologia di abbaco seppur permessa per il calcolo energetico quindi da questo punto di vista non potete fare nessuna valutazione rispetto a questo dato della temperatura minima superficiale interna quindi valutazione sulla condensa superficiale in realtà non potete farla a meno che voi qua non andate a imporre voi il valore della temperatura superficiale interna ma ovviamente non è calcolato in quel caso lì fatto questo voi salvate e chiudete la maschera andate nei dati generali di progetto dove sostanzialmente voi andate a dire al software di caricare il ponte termico nell'input grafico questa è una maschera molto importante perché tramite questa maschera c'è l'automatismo di caricamento dei ponti termici che voi avete creato nell'archivio dei ponti termici all'interno dell'input grafico quindi voi non è che li dovete mettere manualmente potete anche metterli manualmente se volete ma non è necessario nel senso che voi lo fate fare a software il software rileva tutte le situazioni che creano che generano quel tipo di ponte termico e lo vanno ad inserire benissimo allora adesso vediamo un attimino uno sguardo all'archivio delle finestre vediamo un attimo ad esempio come creare una nuova finestra adesso io vado qui creo una nuova finestra la chiamo cento per centoventi vediamo un attimino i dati caratteristici allora innanzitutto il tipo di verifica come nelle pareti anche qui voi dovete dire se è una finestra nuova dovete imborre e verificare se è una finestra esistente che non va verificata allora dovete dirglielo che non va verificata perché questo poi condiziona tutte le verifiche quindi questo è molto importante diciamo questa cosa qui allora in questo caso faccio conto che sia una struttura esistente quindi potrei anche mettere non verificare qua sono tutti i dati che voi potete modificare per esempio se ci sono due ante voi andate a vedete visualizzare come si dice come è conformata la vostra finestra potete anche fare delle modifiche qua sulle mazzette della finestra potete andare a configurarla se c'è il sopra finestra se è di spessore come si dice di struttura diversa voi lo andate a caricare diciamo qui nell'archivio delle vostre strutture idem per il sotto finestra idem per il cassonetto se c'è la presenza o meno nel cassonetto sul termico voi andate a definire il tipo di vetro telaio distanziatore in tre modalità o da struttura quindi dall'archivio delle strutture o da normativo o utente che lo fissate voi allora da normativo voi andate qui se non avete conoscenza di che dato mettere usate quello da normativo quindi andate qui andate a mettere per esempio vetrate doppie senza trattamento superficiale ad esempio con l'aria quindi vetrate doppie con l'aria qui andate a mettere semplice perché non è un diciamo no qui devo mettere doppio perché in realtà c'è un intercapedine quindi nel momento in cui c'è un intercapedine ovviamente qui bisogna imborre doppio il per quanto riguarda gli altri stessa cosa la normativa andate a scegliere il come si dice come è fatto il telaio ad esempio posso prendere questo per il distanziatore idem posso andare a selezionare ad esempio questo e altre cose importanti anche questo se voi avete come si dice delle chiusure con le tapparelle quant'altro qua va inserito perché se voi fate il calcolo energetico si tiene conto nel calcolo energetico della chiusura notturna che va quindi a dare un'influenza in positivo nel calcolo energetico quindi bisognerebbe mettere anche questo il ponte termico se presente adesso io non l'ho creato il ponte termico della finestra si può caricare di qua sul solare invece avete la possibilità di inserire lo schermo quindi ad esempio ad esempio tessuti colorati ad esempio potete mettere tessuti questo qui tessuti colorati poi posso andare a definire il tipo di vetro in questo caso doppio vetro normale quindi andiamo a caricare questo se ci sono delle ombre riportate sulle finestre questa è la sede per poterle inserire vi ricordo che adesso se lo faccio aprire vedete che noi abbiamo aggiunto questa scritta GGL PSH diviso GGL e GGLN per farvi capire che il riferimento rispetta alla norma allora questo in alto è esattamente presente nel prospetto 6 della Uni 11300 parte 1 questo in alto questo in basso il GGLN è presente invece nel prospetto B5 sempre della Uni 11300 parte 1 quindi il B6 e il B5 sono i prospetti che fanno riferimento a questa a quello che noi andiamo poi a definire qui dentro diciamo poi andiamo a inserire le misure quindi poi abbiamo detto un metro per un metro e venti che sono misure in metri e abbiamo completato l'inserimento della finestra per quanto riguarda invece le esposizioni faccio solo capire una cosa importante nel momento in cui voi inserite questo simbolo qua del nord questo qui il software in automatico rileva tutte le esposizioni cardinali tutte cioè non dovete voi inserirle voi diciamo manualmente non solo quando io vado ad inserire ad esempio io vado a piano primo solo per farvi capire spegniamo un attimo il tridimensionale questa parete di divisoria io qui vedete che nei dati stessi posso andarle a modificarla qui io devo lasciare calcolato perché non c'è bisogno di mettere non scambiante perché il software lo sa da solo che questo non è scambiante perché lo sa perché lui qui vede una zona qui vede un'altra con la stessa temperatura ovviamente la considera non scambiante quindi questo bisogna tener conto che il software è completamente automatico quindi su tante cose voi non dovete fare assolutamente nulla diciamo fatto questo adesso io vado a fare una lettura del disegno vedete qua c'è un tasto lettura del disegno è un aggiornamento a frontiera anche se l'ho fatto però adesso lo ribadisco dopodiché voi avete la possibilità di visionare in realtà ve l'ho già fatto vedere all'inizio di visionare il vostro edificio e di fare alcuni controlli ad esempio un primo controllo visivo io ho inserito l'input grafico vado a controllare se corrisponde alla realtà questo un secondo controllo potete farlo sulla pianta voi andate qui e andate a fare un controllo sulla piantina stessa quindi vedete se ci sono cose che non vi non vi quadrano diciamo un terzo controllo molto importante aspetta che io vado ad accendere questo e vado ad accendere gli altri piani un altro controllo fondamentale è quello sulle frontiere scambianti allora qua togliamo il tetto così vi faccio vedere meglio allora la frontiera scambianto quando è indicata in blu significa che è una struttura di tipo esterna se io ad esempio vado a fare un filtro vado ad attivare soltanto il piano primo io posso vedere che lui ha inserito una superficie di soffitto di colore viola perché di colore viola perché sopra c'è un locale non riscaldato quindi tutte le volte che c'è uno scambio verso un locale non riscaldato o verso un locale a temperatura differente viene visualizzato in viola mentre per quanto riguarda invece lo scambio verso situazioni alla stessa temperatura viene ovviamente fissato come si dice visualizzato in rosso e quindi questo è un controllo che sarebbe bene fare diciamo come avete già visto sulla barra laterale io posso agire con dei filtri per cui non lo so adesso se io ad esempio ritorno qui e voglio disattivare il soffitto lo disattivo il soffitto se voglio disattivare ad esempio i muri disattivo i muri cioè insomma avete una possibilità di gestirvi il tridimensionale nel modo che meglio ritenete ora fatto questo adesso diciamo che ecco una cosa che mi premeva anche farvi notare è questo se io sono al piano terra ad esempio il piano terra mi posiziono in pianta vi faccio solo vedere questo ha questo box che ha un soffitto esterno perché qua sopra c'è il terrazzo benissimo quando io vado nell'elenco dei piani questo è l'elenco dei piani e vado sul piano terra vedete che il piano terra ha una struttura impostata che è pavimento interpiano perché io l'elenco dei piani lo faccio con una sezione dove io taglio tutto l'edificio quindi ovviamente non la posso fare dove c'è box perché devo prendere una sezione che comprende tutto l'edificio chiaramente questa struttura pavimento interpiano non va bene per questa copertura qui quindi io vado localmente nei dati estesi di quel locale e gliela cambio vedete struttura soffitto gli ho messo copertura esterna questo è importante diciamo quindi i software capisce che è esterno quello sicuramente però la struttura non è detta che poi sia corretta quindi in quel caso lì voi dovete apportare delle piccole variazioni un'altra cosa che vi voglio far vedere è la stampa delle dispersioni qui avete già il controllo della dispersione quindi la potenza invernale con la quale voi andate a calcolare a determinare la caldaia oppure la bomba di calore avete la potenza massima invernale che questo non è calcolo energetico ovviamente si fa una netta distinzione perché questo è calcolato secondo la UNIEN 12.831 il calcolo energetico è calcolato secondo tutte le norme UNI 11.300 quindi avete anche una statistica quindi avete la possibilità di vedere che cos'è che influenza maggiormente quindi avete la parete esterna è quella che dà la maggiore dispersione poi avete la possibilità anche di applicare una leggenda avete la possibilità di fare un filtro anche non so io voglio togliere le finestre tolgo le porte non so quindi potete gestirvi anche questo avete la possibilità di copiare in come si dice nel paint bush questa questa diciamo questo istogramma avete la possibilità anche di stamparlo questo istogramma se volete potete stampare oltre a questo avete anche diciamo il diagramma torta quindi se non volete l'istogramma avete il diagramma torta che potete utilizzare benissimo altra altra potenzialità offerta dal dal software è quella di poter visionare l'elenco ambienti che è una sorta di tabellare diciamo voi con questo elenco ambiente potete visionare ad esempio che ne so nel bagno tutte le strutture che sono state utilizzate nel calcolo con le superfici e quant'altro poi potete fare anche dei filtri vedete qua voi potete fare un filtro posso cercare dove è il garage vediamo dov'è il garage e lui me lo fa vedere dov'è quindi posso applicare poi un filtro oltre a questo voi avete la possibilità anche di esportare i fogli di Excel quindi selezionare questo andate ad esportare i fogli di Excel posso metterli anche sul desktop ecco c'è e faccio la stampa e lui mi riporta sostanzialmente i dati che avete visto le foglie di Excel dove io posso poi apportare eventuali modifiche insomma quello che mi può servire diciamo benissimo adesso siccome il collega poi vi parlerà dell'inserimento della pompa di calore volevo dare uno sguardo all'archivio delle pompe di calore quindi andiamo nell'archivio delle pompe di calore faccio solo un duplicato di questo per non pasticciarlo cioè per poterlo poi pasticciare prova qua vi faccio presente che nell'archivio mc4 ci sono caricate molte pompe di calore cioè molte diciamo che ci sono delle airmec dei daikin e delle robur allora per quanto riguarda l'airmec avete le aria aria poi avete delle acqua acqua scusate avete delle acqua acqua quindi geotermiche poi avete delle aria aria quindi questo degli split sostanzialmente poi avete le robur che sono delle macchine ad assorbimento quindi volendo voi potreste o utilizzare questo o partire da questo per costruire i vostri per inserire i vostri dati nella pompa di calore c'è da considerare innanzitutto il tipo di alimentazione cioè pompa di calore significa che è presente sia la scheda riscaldamento che raffrescamento ovviamente voi lo potete anche come si dice settare qui perché se io tolgo la scheda raffrescamento qui la scheda raffrescamento sparisce nel senso che voi se volete considerare solo il riscaldamento voi non avete la necessità per forza di compilare i dati di raffrescamento stessa storia sull'acqua calda sanitaria se voi la pompa di calore non la utilizzate per alimentare un circuito ad acqua calda sanitaria non vi interessa inserire i dati di acqua calda sanitaria semplicemente voi disattivate questo check e quindi voi qua non vi trovate più la scheda dell'acqua calda sanitaria per non trovare per non mettere dati che poi non vi servono in sostanza se voi mettete invece chiller voi cosa fate andate a mettere una macchina che fa solo raffrescamento se voi quindi sempre sulla pompa di calore poi è da distinguere sull'alimentazione elettrica dal motore endotermico ad assorbimento se mettete motore endotermico ad assorbimento con bari il combustibile ovviamente che dovete assegnare perché si tratta di generatori di calore inseriti dentro la pompa di calore stessa tornando all'elettrico poi avete la distinzione tra fonda esterna quindi pozzo pozzo freddo aria pozzo caldo acqua oppure avete la possibilità di avere il pozzo freddo antigelo o acqua quindi sostanzialmente le geotermiche con uscita acqua oppure con uscita aria quindi con uscita aria voi avete gli split in sostanza quando voi impostate una geotermica acqua siete tenuti a dire per ogni condizione della temperatura esterna quale sia la condizione quale sia la temperatura dell'acqua di falda in questo caso quindi adatte a imporre 10 gradi oppure potete anche differenziare mese per mese stessa cosa andate a fare poi sulla parte raffrescamento dove andate a dire la temperatura del pozzo freddo quindi dell'acqua di falda che temperatura raggiunge nei vari mesi benissimo mettiamo di nuovo aria acqua per quanto riguarda invece i dati riportati a parte la compilazione sulla scheda di riscaldamento della potenza resa e del COP che dovete ovviamente inserire voi avete la possibilità di inserire anche i dati in due modalità modalità analitica che ovviamente richiede maggiori dati però è anche molto più preciso il calcolo oppure in modalità secondo prospetto 31 ovviamente voi dovete avere il produttore che vi deve fornire esattamente questa tabella questi dati quindi questi sono dati che non è che vi inventate ma li prendete direttamente dalle schede tecniche che vi fornisce il produttore della pompa di calore questo metodo qui è un pochettino meno preciso però ovviamente come vedete ci sono dati che sono più rapidi come inserimento soprattutto lì se noi torniamo all'analitico voi avete anche la possibilità di definire la TOL temperatura limite di funzionamento questa rappresenta il limite di funzionamento della macchina dato dal costruttore cioè ad esempio non so al di sotto di una certa temperatura la macchina si può rovinare quindi a quel punto lì voi avete quel limite lì oppure lo scopo potrebbe essere un altro potrebbe essere un scopo di progettazione voi decidete che al di sotto di una certa temperatura ad esempio 0 gradi centigradi esterni voi volete spegnere la pompa di calore a quel punto lì voi imponete 0 gradi qui mettete 0 gradi e la pompa di calore al di sotto della temperatura esterna 0 gradi si spegne quindi ovviamente in tal caso è chiaro che ci deve essere un generatore di backup quindi in genere si accoppia la pompa di calore con una caldaia di backup con una priorità 1 quindi la pompa di calore prende in carico tutta l'energia se rimane un residuo viene addossato al secondo generatore che è un generatore più scarso come energia quindi queste sono poi definizioni che trovate nella norma 1 10.300 parte 4 il comportamento alla temperatura bivalente significa che nella condizione di pompa di calore insufficiente io posso decidere se far funzionare al di sotto di questa temperatura bivalente che sostanzialmente che cos'è è determinata dall'intersezione tra la curva di resa della pompa di calore e la curva di richiesta dall'edificio quella intersezione al di sotto di quella temperatura si viene a creare sostanzialmente una temperatura una pompa di calore che diventa insufficiente allora in quella condizione di pompa di calore che diventa insufficiente è chiaro che bisogna che ci sia per forza un generatore di backup dopodiché io posso decidere se farla funzionare lo stesso anche al di sotto di questa temperatura allora imbongo l'alternato se invece io decido di no scusate il contrario se io metto alternato io la faccio spegnere al di sotto di questa temperatura se io invece decido che mi va bene lo stesso che funzioni anche al di sotto questa temperatura non importa allora io imbongo il funzionamento parallelo attenzione che questo è preponderante a questa scelta nel senso che comunque al di sotto di questa temperatura poi la pompa di calore si spegne senza senza dubbio possibilità di inserire i dati con un solo gradino oppure possibilità di inserire con più gradini con più gradini attenzione che non basta un gradino ce ne vogliono almeno due di gradini che cosa sono questi gradini io posso avere una pompa di calore a flori compressori ad esempio posso avere una pompa di calore che ha due compressori nel primo compressore nel primo punto di primo gradino io la pompa di calore funziona con tutti e due i compressori accesi quindi massima potenza nel secondo punto io ho una parzializzazione quindi supponiamo ad esempio che funzioni solo un compressore su due quindi potenza parzializzata quindi più piccola questa cosa non vale soltanto su quei pluri compressori ovviamente ma vale anche sull'inverter cioè io posso avere un compressore alimentato da inverter quindi con variazione continua della potenza del compressore quindi qui di gradini ne avrò anche tanti ne posso avere anche 10, 15, 20 chiaramente l'onere diventa anche impegnativo perché voi dovete per ogni punto dovete indicare la potenza resa con il COP corrispondente benissimo torniamo di nuovo al pieno carico poi avete la possibilità di dare i dati sia come COP che come potenza assorbita il numero di punti sorgente e fredde sono questi che vedete qua diciamo che la norma 1 in 12.800 parte 4 ne richiede a meno 4 di punti poi se più ne avete e meglio è per andare a costruire poi questa che si tratta poi di una curva in sostanza il numero di pozzo caldo anche qui potete decidere quanti punti andare ad inserire questo qui è un coefficiente che entra nella formula di come si dice di ricalcolo del COP che viene corretto in sostanza il COP in base al fattore di carico questo è il CR minimo il fattore di carico minimo al di sotto del quale interviene la correzione quindi se io qua mettessi 0 io alla fine non farei correggere in nessun modo il COP che comunque sarebbe sbagliato perché quello che voi vedete qui non è stabilito dalla norma se voi invece avete un'indicazione da catalogo differente a voi ovviamente qua lo poi lo andate a cambiare ma solo se nel catalogo avete qualcosa di differente da quello che impone la norma l'acqua calda sanitaria i dati sono gli stessi quindi non cambia diciamo sul raffrescamento voi andate in BOR la potenza resa della macchina in raffrescamento l'ER corrispondente poi dovete dare gli ER a queste condizioni 175 50 25 gli altri li calcolate selezionando il tasto questi ove li dà il costruttore oppure voi semplicemente andate nella 11300 parte 3 dove c'è questa bella tabella dove voi andate a vedere a seconda delle condizioni delle quattro condizioni a seconda del tipo di pompa di calore che voi avete a disposizione quali sono le condizioni di temperatura esterna e di mandata dell'acqua refrigerata con questi dati voi andrate nel catalogo del costruttore e vi ricavate questi coefficienti che poi sono dei COP in refrigerazione in sostanza benissimo io avrei ecco un'ultima cosina se io volessi inserire una pompa di calore aria aria vi ricordo che in tal caso è necessario inserire soltanto una colonna qui con temperatura di mandata 20 gradi centigradi in sostanza la norma 1 in 12500 parte 4 prevede che per mandata si debba considerare la temperatura dell'ambiente dove è posto la macchina diciamo la macchina interna diciamo in sostanza che è 20 gradi quindi diciamo che nel caso delle pompe di calore aria voi qui per forza una sola colonna dovete mettere non dovete mettere tante colonne ovviamente questo invece resti invariati voi dovreste mettere almeno 4 punti per poter discretizzare per poter costruire la curva mai inserire un solo punto perché se voi inserite un solo punto voi andate a fare una retta con un punto con inclinazione che poi non si capisce qual è quindi voi andate a fare una curva che non esiste una retta con inclinazioni che non si conoscono se inserite due punti inserite una retta sostanzialmente quindi comunque fate un errore più punti inserite più andate a fare una così andate a costruire una curva più rispondente alla realtà benissimo io avrei terminato quello che volevo mostrare adesso passerò la parola al collega l'ingegner Broccardo buongiorno a tutti sono Broccardo collega dell'ingegnere Iammarino con cui avete avuto modo di visionare l'input grafico dell'edificio con me vedrete nel proseguo della presentazione sia una parte di input in funzione proprio di quelle che sono le specifiche degli interventi che dovremmo realizzare e poi andremo proprio nello specifico sulle modifiche a livello di strutture e di impianto atte a realizzare appunto gli interventi migliorativi per appunto avere l'accesso al super bonus allora in prima battuta parto dall'edificio anti intervento nel quale andiamo a modificare il piano sottotetto facendo in modo che la zona sottotetto diventi una zona riscaldata quindi facciamo una modifica della volumetria non riscaldata dell'ultimo piano rendendola appunto una volumetria riscaldata quindi andiamo nell'elenco dell'unità immobiliare zone e andiamo a modificare il sottotetto che da non climatizzato diventa un sottotetto riscaldato quindi cambiamo anche nome giusto per avere indicazione anche di questo aspetto è molto importante escludere questo ampliamento dal super bonus perché l'ampliamento non è oggetto appunto di super bonus quindi come abbiamo già avuto modo di illustrare in precedenza l'ampliamento deve essere escluse quindi sarà compito del programma valutare solo la zona della del piano terra e del piano primo come facente parte appunto del calcolo da inserire nel super bonus e quindi per l'attestato dell'edificio convenzionale nella zona ci sono sempre i dati relegati alla parte di calcolo dei carichi interni e la parte legata alla diagnosi energetica con le attenuazioni del caso in questo sottotetto che diventa riscaldato andiamo anche a modificare il nostro riferimento esterno per andare a definire quello che è il post intervento da realizzare su questo appunto questo nostro edificio in questo edificio in sostanza andiamo ad aggiungere delle pareti quindi andiamo a stirare queste pareti creando alcune divisioni ulteriori e andiamo a disegnare anche alcune pareti che saranno fatte con appunto la nostra parete esterna che costituiranno quello che è in sostanza l'abbaino che andremo a disegnare sia in questa zona superiore sia in questa zona inferiore quindi andiamo a contornare il contorno di quello che costituirà poi l'abbaino e andiamo a inserire gli ambienti opportuni per realizzare il nostro input e andiamo anche a inserire le porte visto che abbiamo anche indicato le porte sul nostro disegno in modo tale da accedere appunto agli ambienti che intenderemo porre appunto nel nostro edificio allora il primo ambiente da inserire che appunto costituisce l'ambiente posto qui sotto quindi sarà sempre un ambiente sottotetto farà sempre parte della zona del sottotetto sottoabitazione perché sarà appunto la nostra zona ampliata sarà sempre il nostro sottotetto dopodiché dopo aver inserito questo ambiente anche quest'altro ambiente che sono mancanti andiamo a utilizzare la funzione ambiente aggregato che è la funzione che serve per definire due diverse una sola superficie due diversi ambienti tra loro collegati in modo tale che la parete di separazione in realtà tra i due ambienti venga a mancare questa creazione di questi due ambienti è funzionale al fatto che dopo il disegno del nostro del nostro appunto dell'area coperta dell'abbaino andremo a creare proprio anche il tetto dell'abbaino e il tetto principale dell'edificio che sarà diverso ovviamente dal tetto dell'abbaino e quindi dobbiamo differenziare le quote in sostanza di questi due tetti e quindi abbiamo la necessità di differenziare anche gli ambienti che dovranno essere stesi l'uno al tetto dell'abbaino l'altro ambiente ad esempio questo al tetto già esistente che è il tetto dell'edificio il tetto principale prima però di realizzare appunto questo input dobbiamo quindi prima di disegnare l'abbaino dobbiamo fare in modo che il tetto principale che appunto è una doppia falda come questa sia diviso sia modificato in modo tale da considerare che qui nell'area dove c'è l'abbaino ci deve essere in sostanza un foro del tetto principale in modo tale che gli ambienti che sono appunto gli ambienti che costituiranno l'abbaino non devono più leggere l'ambiente il tetto principale ma devono leggere appunto il tetto dell'abbaino e allora io mi sono anche già preso delle linee di riferimento per definire appunto dove posizionare il mio taglio del mio tetto il taglio del tetto si fa in questa maniera quindi si prendono due linee fondamentalmente di questo tipo in modo tale da tagliare il tetto in due con una linea in sostanza che crea appunto due due situazioni di appunto di taglio la quota di questi due punti deve essere pari alla quota del colmo quindi se la quota del colmo è posta lo vediamo qua a 10 metri 50 allora anche questi due punti che sono i due punti estremi di queste linee devono stare a 10 metri 50 quindi basta semplicemente fare andare queste linee ortogonali al nostro al nostro tetto spostiamo anche momentaneamente le falde del tetto per avere la possibilità di agire più facilmente sul tetto quindi come vedete abbiamo tagliato il tetto con un primo taglio il secondo taglio lo facciamo in corrispondenza di queste altre due linee quindi un taglio che sarà sempre costituito da un colmo una gronda e sarà più o meno posto in questa posizione quindi questo è il secondo taglio che intendiamo fare tutta questa struttura io la specchio rispetto al colmo così ho realizzato quello che alla fine è quello che volevo fare proprio questo foro del tetto queste due linee posso tranquillamente eliminarle e inserisco di nuovo la falda in questa posizione la seconda falda in quest'altra e ne aggiungo altre due che sono questa falda e questa falda il tetto così adesso è forato quindi presenta due fori laddove appunto dovremmo andare a disegnare il nostro abbaino l'abbaino si disegna andando a considerare un secondo progetto tetto quindi questo progetto tetto che ho appena disegnato lo spengo semplicemente lavorerò sul secondo progetto tetto che andremo a realizzare e l'abbaino sarà appunto questa parte blu che ho disegnato come traccia per capire appunto la dimensione più o meno dell'abbaino che volevo realizzare allora il secondo tetto lo creo appunto nei progetti tetto qui abbiamo la possibilità di creare un secondo progetto tetto che sarà appunto il tetto dell'abbaino l'abbaino è realizzato con la copertura sempre che abbiamo a disposizione disegniamo allora col comando utilizziamo anche un altro comando che trasforma le linee in colmo gronda la linea in colmo gronda è da trasformare questa 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 e questa in questo caso cosa abbiamo fatto abbiamo semplicemente disegnato un tetto piano come facciamo per trasformare in un tetto che deve arrivare alla quota giusta in particolare dovrà essere la quota 10 metri e 20 centimetri di colmo e 9 metri e 20 centimetri di gronda quindi 10,20 9,20 basta semplicemente tira il programma che devo definire delle quote dei vari punti del mio tetto ad esempio la quota dei miei punti dovrà essere questa a 10 metri e 20 centimetri e questa qua a 9 metri e 20 centimetri quindi digito il comando che mi dice appunto che la quota assoluta sarà 10 metri e 20 centimetri basta semplicemente sceglierla digitandola questo sarà il punto a 10 metri e 20 centimetri e anche questo sarà un punto a 10 metri e 20 centimetri questi altri 4 che sono tra l'altro ne ha evidenziati anche il programma dovranno essere invece a 9 metri e 20 centimetri quindi questo punto questo punto questo punto e questo punto saranno a 9 metri e 20 ecco qua che adesso il tetto effettivamente assume una conformazione proprio più consona alle attese vado anche qui a inserire le falde per verificare che vada tutto bene mi sembra che funzioni tutto questo oggetto lo posso specchiare sempre rispetto al tetto principale quindi seleziono il mio abbaino rispetto al tetto farò lo specchio quindi specchio rispetto al colmo e ho realizzato l'abbaino anche quindi riposizioniamo le falde già inserite e andremo ad inserire anche due falde in questa posizione quindi le falde del secondo abbaino questo è il risultato finale che otteniamo per quanto riguarda il disegno dei tetti spegniamo il disegno dei tetti momentaneamente attiviamo il disegno dei piani togliamo magari il riferimento esterno facciamo l'estensione dei sottotetti ecco qui che abbiamo realizzato il nostro modello con appunto gli abbaini eccolo qua allora torniamo in pianta mancano ancora le finestre degli abbaini quindi abbiamo disegnato in sostanza il le nostre falde mettiamo ancora come dicevo le finestre le finestre le inseriamo appunto in questa posizione le finestre saranno la finestra proprio tipica dell'abbaino quindi ho già creato una finestra abbaino da inserire appunto nel punto centrale dell'abbaino stesso eccola qua andiamo a riaccendere tridimensionale riestendiamo il sottotetto ecco qui che c'è anche la finestra dell'abbaino posizionata correttamente ok mancano ancora i lucernari quindi andiamo a vedere anche come si mette il lucernario ad esempio sul tetto principale questo accendiamo sempre il piano di sotto così vediamo anche dove posizionare i lucernari allora il lucernario si posiziona col comando lucernario scegliamo anche qui la finestra da inserire quindi dalla barra laterale il lucernario si inserisce con un clic e il secondo clic per dare l'inclinazione semplicemente in questa maniera poi se il posizionamento non è adeguato basta semplicemente vedete stirare il lucernario in maniera molto semplice lo si posiziona anche in maniera precisa insomma esattamente dove deve andare e abbiamo così completato anche l'input del tetto quindi con i due lucernari sul tetto principale sono andato attivare ovviamente il tetto giusto perché i lucernari ho dovuto cambiare progetto tetto perché li ho disegnati non più sull'abbaino ma sul tetto quindi il tetto e il progetto attivo ho inserito i lucernari e laddove c'è l'abbaino ho appunto i miei abbaini che ho appena disegnato benissimo ora viene proprio il momento di realizzare i nostri interventi allora questo caso che è appunto il caso ante andrà a essere salvato col nome e quindi lo chiamiamo post post caso a e lo chiamiamo cappotto quindi con cappotto intendo tutti gli interventi in sostanza che intendiamo realizzare sulle strutture spegniamo un pochino di cose che adesso non sono più utili entriamo negli archivi delle strutture e la modifica che facciamo è appunto quella sulla parete esterna quindi la parete esterna deve essere capottata quindi andiamo a inserire isolante polistirene da 12 cm e completiamo con l'intonaco esterno pari a un centimetro questa è la prima struttura su cui io vado ad agire la seconda struttura è la copertura quindi la copertura con cui sono costituiti gli abbaini e il tetto principale la copertura viene a modificarsi andando a inserire di nuovo anche per essa una struttura di isolamento in questa posizione l'isolamento sarà da 16 cm e modifichiamo per starci negli ingombri la malta inserendo una malta da 5 cm quindi abbiamo una struttura di questo tipo che è appunto la struttura del nostro tetto e la struttura di parete esterna che è appunto stata modificata non solo dobbiamo fare questi interventi ma in previsione di modificare chiaramente anche i ponti termici vi servirà una struttura in particolare che è la trave perché considererò la trave isolata per quanto riguarda l'innesto parete copertura quindi la carico già in progetto in modo tale da considerarla appunto a tempo debito e cioè proprio quando adesso andremo a modificare la gestione dei ponti termici in particolare che ponti termici sostituisco modifico perché appunto abbiamo fatto una modifica delle strutture bene abbiamo alcuni ponti termici in archivio ce n'è uno che è calcolato con il metodo degli elementi finiti semplicemente lo visioniamo giusto per capire di che cosa si tratta ma non vado a fare calcoli particolari il ponte termico è il ponte termico di parete solaio interpiano ante intervento che ha una sua trasmittanza di neica lo sostituirò con il ponte termico post parete solaio interpiano che come vedete è molto migliorato la stessa cosa succede per per le coperture c'è la copertura del garage che è fatta in questa maniera verrà appunto sostituita cosa faccio in sostanza la parete copertura garage e la parete copertura falde devono essere appunto modificate quindi farò un intervento post parete copertura falde quindi creerò un nuovo ponte termico che sarà un ponte termico in questo caso da abaco che sarà post parete copertura falde il post parete copertura falde è una parete isolata quindi una copertura intanto ed è una parete isolata all'esterno con copertura isolata e travi isolata quindi copertura parete isolata all'esterno cerchiamo la parete isolata all'esterno con copertura isolata e trave isolata eccola qua questo è il nostro ponte termico in questo caso oltre a scegliere la parete esterna isolata devo andare a modificare il ponte termico inserendo anche la trave ecco qui che mi serve appunto anche la trave isolata per effettuare questa valutazione il terzo ponte termico che devo cambiare è quello della copertura del garage il ponte termico di copertura del garage che devo creare ex novo sarà sempre un ponte termico da abaco sarà un post parete copertura garage appunto e sarà costituito da un ponte termico sempre di copertura e sarà fatto da una parete isolata all'esterno con copertura isolata trave isolate e parapetto isolato quindi questo è il nostro ponte termico mi serve anche qui inserire la parete esterna che è la parete isolata e abbiamo appunto la definizione del nuovo ponte termico salve chiudo questa situazione abbiamo modificato i ponti termici due di questi ponti termici andranno a essere indicati direttamente nei dati di progetto in particolare sostituisco l'ante parete copertura falde col post parete copertura falde e l'ante parete sola interpiano col post parete sola interpiano il terzo ponte termico che è quello col parapetto non è altro che il ponte termico che si ha sopra il garage sopra il garage io ho dei ponti termici che ho già inserito manualmente sono questi gialli andando nei dati estesi vediamo di che tipo di ponte termico si tratta è un ponte termico diverso da quello di copertura falda proprio perché ha anche il parapetto allora l'ho definito appunto andandolo inserire manualmente lo sostituisco proprio con la post parete copertura garage vedete che anche il colore del ponte termico è cambiato perché era giallo in precedenza adesso è marroncino è scuro quindi ho modificato anche questo ulteriore ponte termico fatta questa sostituzione dei ponti termici andiamo a aggiornare in sostanza il calcolo dell'edificio e andiamo a lanciare il calcolo di 10 e 10 dove però dobbiamo attenzione fare ancora una modifica all'input perché abbiamo definito il sottotetto come riscaldato chiaramente in centrale termico che io devo attribuire questa zona al mio impianto quindi non ho più solo la zona unica che è del piano terra del piano primo ma anche la zona del sottotetto perché anche essa deve essere appunto considerata nel nostro input quindi andremo a inserire anche qui i radiatori come nell'altra circostanza come per l'altra zona e la attribuiamo anche per l'acqua calda sanitaria facciamo quindi il calcolo di questa situazione e abbiamo appunto il nostro edificio calcolato come appunto il cappotto quindi con gli isolanti del di cappotto perfetto qui possiamo dare ok e salvare questa situazione apriamo il caso ante il post del caso a cappotto lo possiamo momentaneamente chiudere nel caso ante andiamo a lanciare il calcolo di diagnosi e andiamo a vedere intanto da che classe partivamo per l'ante che partiamo appunto da classe f classe f valutata vi ricordo solamente sulla zona della parte non ampliata perché la parte ampliata l'abbiamo esclusa con l'apposita spunta quando facciamo quindi l'intervento migliorativo che è appunto l'intervento di cappotto l'intervento di cappotto più la copertura costituisce un intervento dettagliato come tale io devo andare a scegliere appunto il file che voglio utilizzare per questo cappotto quindi abbiamo appena fatto il post caso a cappotto lo apriamo e andiamo nella scheda risultati vediamo che passiamo da classe F a classe C questa classe C ricordo è valutata escludendo la parte ampliata infatti se vogliamo fare un controllo ad esempio di questa situazione e adesso lo faremo vedremo come sia possibile anche avere una classe diversa se si considera appunto l'edificio nel suo complesso quindi quando facciamo il calcolo di legge 10 comunque intanto salviamo questo risultato quindi il nostro ante costituisce adesso lo possiamo anche salvare con nome dove mettiamo che stiamo realizzando i nostri interventi così ce l'abbiamo appunto mano a mano che facciamo gli interventi andiamo appunto a consolidarlo allora apriamo di nuovo il file che abbiamo appena utilizzato per il primo intervento se io lanciassi il calcolo di legge 10 vi ricordo che prima eravamo in classe c per l'intervento che avevamo realizzato se vado a visionare la villetta nel suo complesso quindi comprensiva anche dell'ampliamento siamo invece in classe b quindi le situazioni devono variare possono variare proprio in funzione in virtù del fatto che nell'app di legge 10 classico io considero tutte le unità scusate tutte le zone che fanno capo a questa unità immobiliare ma per il super bonus questo non va affatto assolutamente per il super bonus io devo considerare solamente la quota parte che costituisce la parte su cui io ho fatto una riqualificazione una ristrutturazione ma non un ampliamento l'ampliamento deve essere escluso dalla valutazione del super bonus allora abbiamo fatto il primo intervento adesso andiamo a fare un secondo intervento che lo possiamo fare direttamente magari salvando col nome il file e lo chiamiamo cappotto poi caldaia quindi stiamo facendo anche un intervento impiantistico un secondo tipo di intervento sempre trainante che è ad esempio la sostituzione del generatore andiamo sempre in centrale termica e andiamo a sostituire la caldaia esistente con una caldaia condensazione quindi andremo a prelevare questa prima caldaia e la sostituiremo con una seconda caldaia che invece è una caldaia condensazione andiamo a vedere con questo secondo intervento che si configura proprio semplicemente come una mera sostituzione non a parità di ogni altra condizione qui abbiamo sempre la nostra classe dell'edificio ma vediamo adesso questo secondo intervento come si configura per il super bonus quindi salvo questo secondo seconda situazione vado sempre nel file ante entro in diagnosi facciamo un secondo intervento che non è solo cappotto e copertura ma è in sostanza cappotto copertura e caldaia quindi cappotto copertura caldaia questo secondo intervento sempre dettagliato a necessità ovviamente di questo secondo file calcolo passiamo da classe F a classe B ecco in questo caso ho fatto un altro salto di classe prima ero in classe C con l'intervento cappotto e copertura adesso con l'intervento cappotto e copertura caldaia arrivo addirittura in classe B benissimo salviamo anche questo secondo intervento apriamo nuovamente l'intervento cappotto caldaia andremo a effettuare degli altri interventi in particolare andiamo a sostituire le finestre quindi entriamo nelle finestre quindi facciamo un intervento trainato e le finestre che abbiamo utilizzato che sono finestre con la trasmittanza elevata la abbassiamo quindi andiamo a definire nelle caratteristiche termiche un doppio vetro basso emissivo per le nostre finestre e andiamo così a modificare le nostre finestre da vecchie finestre con trasmittanza elevata finestre con una trasmittanza invece più che buona quindi modifichiamo tipo di vetro che utilizzo per questo serramento e andiamo a scegliere poi che non basta solamente questa modifica dobbiamo poi andare anche a definire che per gli apporti solari non utilizziamo più il vetro normale doppio vetro normale ma sarà questo un doppio vetro basso emissivo quindi nelle caratteristiche solari non è più un doppio vetro normale ma è un doppio vetro con rivestimento basso emissivo volendo possiamo utilizzare anche il comando che applica a tutte le finestre questa impostazione in modo tale che tutte le finestre abbiano appunto doppio vetro con rivestimento basso emissivo eccolo qua quindi siamo andati a intervenire sui seramenti allora questo intervento sui seramenti mi permette però di diciamo in aggiunta anche ovviamente all'intervento che ho fatto sulle strutture mi permette anche di andare a modificare un altro parametro allora qui intanto questo file lo salvo come capotto caldaia e seramenti mi permette anche di fare un'ulteriore modifica nella parte legata alla centrale termica in particolare vado a sfruttare ancora meglio la condensazione perché vado a definire la temperatura dimandata del fluido termovettore non più a 60 gradi ma a 50 con ritorno a 40 quindi facciamo una modifica proprio anche a livello impiantistico sul nostro generatore e l'abbiniamo appunto al fatto che abbiamo isolato e abbiamo anche sostituito i seramenti facciamo il calcolo quindi con queste condizioni allora sempre in questo caso uno ma tutto l'edificio tutta la villetta quello che mi interessa più che altro è vedere cosa succede quando questo intervento lo vado a inserire nel super bonus perché come abbiamo visto non è detto che io abbia la medesima classe non è detto che io abbia lo stesso valore di energia quindi di nuovo nell'intervento io entro in diagnosi e facciamo il terzo intervento che è il cappotto copertura caldaia e serramenti questo intervento che è chiaramente un dettagliato ha necessità ovviamente di caricare il file con i serramenti facciamo calcolo anche in questa situazione e otteniamo una classe A1 quindi siamo arrivati mano a mano prima da classe C poi classe B poi classe A1 in ultimo facciamo ancora un intervento su questa configurazione un intervento che è un intervento che costituisce la sostituzione del generatore però questa volta con pompa di calore quindi andiamo a salvare questo ad aprire di nuovo il file dove abbiamo introdotto i serramenti e andiamo a effettuare un intervento che non è più di caldaia ma è pompa di calore e fotovoltaico allora questo ulteriore intervento implica che andremo appunto a sostituire la caldaia con una pompa di calore quindi anche il nome lo cambiamo così almeno abbiamo l'indicazione del fatto che stiamo lavorando non più con una caldaia ma chiaramente con una pompa di calore dopo la sostituzione della pompa di calore abbiniamo nel contempo anche un impianto fotovoltaico quindi facciamo un nuovo impianto fotovoltaico che sarà un impianto da 1,7 kilowatt circa non un impianto enorme creiamo un generatore parziale che è appunto inclinato 90 gradi perché lo considero sulla falda a ovest con un modulo che è questo indichiamo 5 moduli e scegliamo l'algoritmo di calcolo fornito dal costruttore come reso del nostro pannello fotovoltaico lo attribuiamo alla nostra centrale elettrica e facciamo il calcolo adesso con pompa di calore più fotovoltaico andiamo a vedere dove siamo arrivati quindi non guardo nemmeno ciò che mi dà la legge 10 perché mi interessa comunque quello che sarà la classe del super bonus quindi salvo questa situazione torno nel caso ante lancio la diagnosi e vado a creare l'ultimo intervento che adesso qui lo chiamo solo il punto di calore più fotovoltaico ma chiaramente ci sono tutti quelli che ho fatto anche in precedenza quindi serramenti cappotto ponti termici e quant'altro prendiamo l'ultimo file andiamo sui risultati e otteniamo una classe a tre quindi abbiamo effettivamente raggiunto un bel obiettivo con questo intervento abbiamo chiaramente la possibilità di stampare l'ape ante operam l'ape ante operam appunto parte da una classe f utilizziamo il pdf quindi facciamo le nostre stampe ante quindi questa è l'ape ante l'ape post si stampa tramite il tasto chiaramente post dove abbiamo appunto una classe a tre questo è il post con tutti e quattro gli interventi l'ape post ci dà appunto la classe a tre che avevamo visto in precedenza ora velocemente facciamo ancora il caso che avevamo comunque in mente di realizzare che è in sostanza partendo dall'ape ante che era appunto che avevamo in mente andiamo a fare il in sostanza il caso B che è il caso in cui andiamo a in sostanza aggiungere un piano allora l'aggiunta del piano in sostanza si fa in maniera abbastanza semplice perché basta entrare nell'elenco piani e dire al programma che si crea un piano secondo quindi una faccia la copia del piano primo quindi questo sarà il piano secondo piano secondo che lo aggiungo prima del piano sottotetto copio dal piano primo tutto quanto quindi facciamo la copia del piano prima e lo aggiungiamo prima del piano sottotetto semplicemente quindi questo è il nostro edificio con il piano secondo inserito quindi questo piano secondo che io sono andato appunto a inserire dovrà poi essere modificato ancora ma intanto vediamo cosa abbiamo realizzato quindi abbiamo in sostanza una situazione di questo genere dove abbiamo piano terra un primo un secondo e un sottotetto quello che ci manca ancora è alzare l'altezza del vano scala perché adesso il vano scala arriverà comunque a un piano ulteriore quindi al piano terra il vano scala sarà alto di più di quello che è attualmente la sua altezza qui in particolare sarà intorno a 12 metri e 73 centimetri questo è il nostro appunto nostra scala che arriva appunto ad essere appunto a completare il piano sottotetto dobbiamo ancora completare però l'input del nostro piano perché nel piano sottotetto il tetto effettivamente è posto troppo basso rispetto a quello che era la la locazione ottimale io ovviamente il tetto non lo voglio buttare via quindi conservo il tetto che avevamo già disegnato in precedenza allora questo tetto io lo alzo quindi così vediamo anche la funzionalità che mi permette di spostare rigidamente il tetto lungo l'asse Z lo alzo di 2 metri e mezzo chiaramente parto sempre dal caso ante ovviamente stiamo sempre partendo dall'ipotesi del caso ante questo sarà appunto il nostro sottotetto dopo appunto l'aggiunta di questo corpo di fabbrica che è tutto il piano secondo che sarà un piano riscaldato il sottotetto invece rimane un piano non riscaldato quindi un vero e proprio sottotetto non riscaldato quindi la zona sottotetto non riscaldato la lascio come tale quindi nell'elenco zone in sostanza ho un sottotetto non riscaldato per quanto per quanto invece riguarda la zona del piano secondo la dobbiamo duplicare cioè dobbiamo creare una zona a parte quindi la zona unica da cui parto verrà duplicata la chiamo piano piano 2 ampliamento questa è la zona appunto ampliata che non deve essere inclusa nel super bonus non deve quindi gli tolgo la spunta non deve essere inclusa nel super bonus questo è quello che bisogna fare quindi bisogna fare in modo che la zona che andrò a posizionare al piano secondo non dovrà essere chiaramente inclusa nel super bonus quindi non uso la zona unica per gli ambienti del piano secondo ma uso questa zona che ho appena realizzato quindi seleziono gli ambienti del piano secondo dalla zona unica passa la zona P2 ampliamento questo è l'input che bisogna fare quindi bisogna inserire tutti gli ambienti che sono stati aggiunti perché ho aggiunto proprio un piano e tutti questi ambienti aggiunti andranno a essere inseriti in una zona a parte che appunto è la zona dell'ampliamento quindi abbiamo realizzato anche questo ulteriore tipologia di input allora per velocizzare perché altrimenti dovrei rifare tutti gli interventi io parto dal questo sarebbe in sostanza il caso in cui io devo appunto fare ancora gli interventi per esempio sulle strutture ne facciamo proprio solamente uno per capire di che cosa si tratta uno particolare proprio per questa particolare configurazione dell'edificio in particolare appunto io vado a definire il questi due queste due strutture di soffitto verso sottotetto non riscaldato di pavimento sottotetto non riscaldato isolate che vado a inserire nell'elenco piani direttamente nel piano secondo quindi vado al piano secondo e invece di inserire un soffitto interpiano non isolato vado ad adottare quindi non il soffitto interpiano non isolato ma vado a scegliere proprio il soffitto verso sottotetto e come pavimento del piano sottotetto definirò il pavimento non più il pavimento interpiano ma il pavimento isolato pavimento sottotetto quindi vado a inserire già delle strutture isolate e ho fatto diciamo il primo tipo di intervento che si era pensato di realizzare il secondo tipo è l'intervento sempre della parete esterna quindi la parete esterna viene isolata gli aggiungiamo sempre il nostro polistirene da sedi da 12 centimetri più gli mettiamo l'intonaco esterno un centimetro questo è la seconda fase di intervento la terza è sulla copertura la copertura è non isolata isoliamo comunque anche la copertura visto che chiaramente stiamo ampliando abbiamo dovuto buttare giù tutto quindi anche il sottotetto comunque lo stiamo rifacendo anche se mantiene il fatto di non essere riscaldato ebbene la copertura che intendiamo adottare sarà da modificarsi anch'essa quindi ci aggiungiamo dell'isolante dell'isolante che è in questo caso un isolante leggero nel senso che c'è meno isolante rispetto a quello che poteva essere il sottotetto gli ambienti riscaldati che vedono che hanno come struttura scambiante proprio il tetto direttamente quindi era un ambiente sottotetto in questo caso sottotetto non riscaldato quindi andiamo a definire una struttura effettivamente con minore isolamento mentre invece abbiamo abbondato sull'isolamento sul soffitto verso sottotetto perché queste strutture sono delle strutture che devono rispettare un limite effettivamente più basso quindi dobbiamo avere degli isolanti più spinti quindi così abbiamo fatto appunto l'isolamento anche delle pareti della copertura del sottotetto e anche della struttura orizzontale di separazione tra piano secondo piano sottotetto chiaramente questi interventi poi dovranno configurarsi anche come interventi per esempio sui ponti termici io per brevità questo era solo un esempio esempio del post intervento del caso B allora io lo apro già l'intervento del caso B già fatto perché altrimenti poi non abbiamo il tempo di andare a inserire anche questo intervento quindi intanto parto sempre dal caso anti-intervento che è il caso iniziale e su questo anti-intervento innesto in diagnosi degli interventi che sono il primo intervento migliorativo che è sulla falsa riga di quello che abbiamo già fatto per il caso A e il cappotto quindi con cappotto intendo parete esterna e i solai e i ponti termici l'intervento è dettagliato ed è questa volta il caso B quindi con l'aggiunta di un corpo di fabbrica nuovo il caso B che sono appunto elencati qui quindi abbiamo il caso B dove abbiamo appunto il cappotto i risultati di questo caso B con cappotto ci danno una classe C aggiungiamo l'intervento che sarà cappotto caldaia il cappotto e la caldaia sempre dettagliato dove abbiamo in analogia quanto abbiamo fatto già per il caso A fatto le medesime i medesimi cambi quindi cappotto più caldaia vediamo se anche qui riusciamo a fare un salto di due classi anche in questo caso facciamo un salto di due classi ma rimaniamo in classe C quindi dobbiamo ipotizzare magari di andare a fare ulteriori interventi quindi questo intervento sarà cappotto caldaia e ferramenti e ci muoviamo appunto nel caso del cappotto caldaia serramenti ma non caso A ma caso B quindi cappotto caldaia finestre con questo intervento riusciamo ad arrivare in classe B e completiamo ancora con l'ultimo intervento che è quello con la pompa di calore quindi io qua lo chiamo semplicemente PDC fotovoltaico ma ci sono anche gli interventi sull'involucro è chiaramente quindi ci sono sia i serramenti sia le strutture isolate e quindi caso B con la pompa di calore risultati otteniamo una classe A3 quindi anche in questo caso possiamo stampare la piante opera ante in questo caso è B A o B in realtà sono le medesime perché partiamo sempre dal caso iniziale che è il caso ante intervento che è il medesimo sempre classe F e la pe post operam che è quella con la pompa di calore ma dove ho l'ampiamento che sarà il post caso B che prevede appunto tutti gli interventi che abbiamo di cui abbiamo discusso e siamo appunto in una classe A3 con una superficie che vedete che è una superficie riscaldata di 149 metri quadri se facessimo giusto così come ulteriore verifica aprissimo il caso B dove abbiamo messo la pompa di calore quindi questo qua cappotto finestra e pompa di calore fotovoltaico e abbiamo visto che nel caso B noi avevamo la 3 con 26 49 e 149 metri quadri di superficie utile riscaldata se io dovessi fare il calcolo di legge 10 di questa situazione e volessi fare anche l'attestato in questa situazione cosa che chiaramente è possibile fare ricordiamoci che l'attestato che io stampo qui è totalmente diverso perché ho una superficie completamente diversa io considero una superficie utile che comprende in questo caso perché non sto facendo l'ape dell'edificio standardizzato dell'edificio appunto ai fini del superbonus ma sto facendo un classico app della mia villetta che comprende anche l'ampliamento quindi tutte le cose che ci siamo detti prima l'esclusione della zona ampliata avvengono all'interno dell'ambito di diagnosi ma non all'interno dell'ambito del calcolo di regge 10 e infatti qui possiamo anche stampare eventualmente la relazione di legge 10 quindi la classica legge 10 questa sì che sarà poi il documento da consegnare in comune e che appunto prevede le verifiche legate all'intervento realizzato quindi anche nei risultati noi possiamo vedere i risultati di calcolo della nostra villetta che comprende ovviamente quello che è il modello dell'intero edificio con le verifiche appunto positive che abbiamo realizzate apriamo la legge 10 eccola qua e qui c'è chiaramente in questo caso la relazione di legge 10 che ricordo però non ho stampato in diagnosi in questo momento ho stampato nel calcolo di legge quindi rimane appunto la relazione che voi potete consegnare in comune qualora appunto avete necessità di farlo con appunto l'avvento del prossimo service pack come vi ha anche mostrato il mio collega in anteprima avrete appunto delle nuove funzionalità che vi sono state descritte in precedenza e che quindi possono poi entreranno poi a far parte del vostro bagaglio appunto del punto di programma che potrete utilizzare ok direi che ho ampiamente sforato il tempo che mi ero effettivamente ripromesso di utilizzare comunque sia adesso abbiamo ancora un quarto d'ora per le domande vediamo un po' che cosa appunto mi avete già scritto come domande qui nella nella lista allora vediamo un po' allora sì c'è una ci sono delle domande legate ai riferimenti legislativi per i vari tipi di intervento bene noi abbiamo fatto un ampliamento sia con la domanda è legata un po' dal fatto che ci sia demolizione e ricostruzione con ampliamento dove il super bonus è applicabile anche nel caso di un semplice ampliamento senza demolizione e ricostruzione e abbiamo fatto tutte e due le casistiche in realtà abbiamo fatto sia la demolizione della parte superiore perché abbiamo aggiunto un intero piano e del caso B ma abbiamo fatto anche il caso A con il recupero del sottotetto in entrambi i casi abbiamo escluso l'ampliamento dal super bonus in realtà perché l'ampliamento è appunto sempre da escludersi vediamo un po' la superficie vetrata influisce sulla valutazione del 25% sulla superficie disperdente lord mi è venuto il dubbio facendo una diagnosi allora la percentuale per il calcolo del 25% è legata legata al discorso della superficie degli interventi trainanti quindi gli interventi trainanti non sono quelli di serramenti di conseguenza i serramenti non si includono in questa verifica proprio perché non sono interventi trainanti allora poi c'è una terza domanda come posso tenere conto di un eventuale accumulo per impianto fotovoltaico quindi immagino delle batterie in realtà non c'è nella norma 1.ITS non vi è traccia di come considerare le batterie quindi non se ne può tenere conto allora vediamo un po' allora qui c'è una domanda molto lunga si parla di un caso proprio specifico e insomma effettivamente anche veramente molto lunga da leggere quindi preferirei magari mi la poneste in assistenza ecco queste domande un po' particolari dove ci sono effettivamente delle condizioni di casi particolari molto articolate ci metterei qualche minuto a leggere tutto sarebbe meglio porle in assistenza allora vediamo un po' dunque allora mi chiedo se devo comunque depositare una legge 10 in comune o comunque necessità di avere un file completo con gli interventi migliorativi quindi l'amplimento del metodo semplificato serve a poco dal punto di vista pratico allora come vi ha mostrato il collega il collega vi ha fatto vedere una casistica dove ha fatto un intervento migliorativo semplificato e avete visto che potete lanciare anche la stampa di legge 10 da quel caso quindi direi che l'ha trattato il mio collega abbastanza compiutamente proprio all'inizio della spiegazione di come realizzare anche le nuove stampe col nuovo service pack allora vediamo un po' la parete di confine tra esistente ed ampliamento laddove questa prima dell'ampliamento abbia un'esposizione esterna o verso ambienti non riscaldati come viene considerata in uno stato ante scambiante o diabatica la sua considerazione almeno risulta rilevante fino al calcolo di spieghi disperdenti anti-intervento allora dipende come era prima dell'intervento se è verso esterno verso ambienti non riscaldati prima dell'intervento quella superficie è scambiante quindi nello stato ante è scambiante non è adiabatica se si vuole considerare adiabatica si deve mettere non scambiante ma dal punto di vista dello stato ante se quella parete è posta tra l'ambiente riscaldato e dall'altro lato c'è esterno un ambiente non riscaldato quella parete è scambiata a tutti gli effetti allora vediamo questa nel caso di unità immobiliare all'interno di un condominio per verificare il salto di due classi nell'app e posto bisogna considerare i soli servizi energetici ante quindi interventi trainanti quali capotto ma posso mettere anche gli infissi nuovi vero ma noi nuove caldee condensazione poste nel caso di impianti singoli e autonomi si considerano le vecchie caldee esistenti grazie allora qui c'è una domanda in particolata comunque sia in soldoni i servizi energetici ante vengono già considerati in automatico l'abbiamo fatto vedere proprio nel primissimo webinar che abbiamo realizzato dove abbiamo fatto anche l'aggiunto di servizi energetici che abbiamo visto che nel post quindi nell'app post dell'edificio convenzionale non vengono considerati i servizi energetici aggiunti sono solo considerati i servizi energetici che erano posti ante operam quindi ante intervento quindi questo l'abbiamo già visto gli infissi si possono mettere chiaramente sono in un intervento trainato non è trainante ma come intervento trainato possono essere considerati le caldaie condensazioni si possono si possono introdurre quindi possiamo cambiare le caldaie con le caldaie condensazioni come abbiamo fatto e questo è un intervento trainante allora vediamo un po' allora nelle demolizioni di costruzioni con la possibilità urbanistica di ampliamento sfruttando l'eco sisma bonus la parte ampliata va in detrazione assieme al resto della volumetria oppure da contabilizzare a parte ma abbiamo visto come si trattano quindi la spunta che è stata inserita a livello di zona che fa capo alle zone dell'ampliamento non viene considerata appunto nel super bonus viene considerata a livello energetico quindi viene chiaramente considerata dal punto di vista del calcolo dell'energia dell'edificio perché se il generatore come in questo caso è unico perché io ho servito con lo stesso impianto che ho appunto ampliato per andare a servire anche la zona ampliata quindi un ampliamento di un impianto esistente ebbene chiaramente nel calcolo deve essere inclusa comunque anche questa zona dell'ampliamento ovviamente perché il generatore dovrà farsi carico anche di questa per quanto riguarda però il super bonus come abbiamo visto togliendo la spunta non consideriamo quella zona dell'ampliamento per creare per realizzare l'attestato dell'edificio convenzionale quindi che appunto è l'attestato in sostanza che produciamo all'interno della diagnosi energetica allora la struttura del sopra o sotto finestra va sempre messa per la composizione degli infissi oppure se non la inserisco lui assina direttamente la parete esterna fa proprio in questa maniera quindi se viene forzata una struttura di sotto e sopra finestra in archivi o delle finestre allora il programma prende la struttura o le strutture che l'utente ha fissato viceversa se non si mette nulla si lascia assente all'interno dell'archivio o delle finestre allora il programma è istruito affinché si consideri come sotto e sopra finestra la parete su cui ho inserito il serramento stesso quindi non è che non esisterà sotto e sopra finestra sarà uguale semplicemente la parete su cui ho posto il serramento se non ho indicato chiaramente qualcosa di diverso all'interno dell'archivio delle finestre allora vediamo un po' allora c'è una domanda vediamo un po' qui allora qui forse si faceva riferimento a qualche cosa che era stato già detto prima allora se per una pratica ecco bonus esiste un gruppo di professionisti l'asseverazione che trasmette da trasmettere né a chi la firma beh il progettista degli impianti e quindi sarà solo lui che dovrà fare l'assicurazione di richiesta per l'intervento allora che questa è una domanda un pochino legata a aspetti anche fiscali economici che probabilmente sarebbe da porre all'agenzia delle entrate più che a noi quindi ci sono delle domande che effettivamente sono legittime ma non attengono strettamente all'uso del software e sono appunto situazioni un po' particolari delicate che devono essere trattate dall'agenzia delle entrate in prima battuta dato l'argomento o in subordine all'Enea anche se l'Enea in genere risponde più che altro su aspetti di tipo tecnico ecco questo è un aspetto che è un po' un po' più economico per quanto riguarda ad esempio l'assicurazione e quindi dovreste chiedere effettivamente all'agenzia delle entrate allora terzo domani in un condominio in cui si effettua il cappotto con 100% la sostituzione delle soglie delle finestre la coibentazione delle stradosse e dell'introdosse dei balconi in quanto ponti termici rientrano le attrazioni del 110% ovviamente la coibentazione dei balconi essendo di proprietà delle singole UE andrebbe considerata come lavori di efficienzamento tra i nati dalle singole UE è possibile? è una bella domanda di certo la correzione di ponti termici è sicuramente una situazione che è bene considerare quando si fa appunto un intervento di qualificazione se poi essa debba entrare o meno come lavoro nell'efficienzamento tra i nati è possibile però varrebbe la pena chiedere a Enea in questo caso quindi è un argomento che molto probabilmente Enea può sviscerare in maniera compiuta e quindi vi consiglierei di chiedere a Enea in questo caso allora quindi da diagnosi energetica si può stampare una relazione in cui sono presenti sia le verifiche super bonus che quelle di DM 2015 allora la domanda è legata probabilmente a quello che avete visto con il collega all'inizio della presentazione e un service pack che stiamo appunto testando in questi giorni e sarà a brevissimo a disposizione quindi in questo caso potrete poi fare tutte le stampe del caso io vi ho ancora proposto quello che è attualmente la situazione che avete a disposizione in questo momento il collega vi ha già fatto un'anteprima e nell'anteprima avete visto che è possibile fare entrambe le stampe allora come mi devo comportare se l'amplimento riguarda solo un abbassamento del pavimento o un innalzamento del sottotetto riscaldato per il 110 ante e post l'abbassamento del pavimento cambia la volumetria quindi sicuramente o anche l'innalzamento in realtà del sottotetto cambia la volumetria quindi di sicuro un intervento deve essere realizzato se questa struttura io la comunque la demolisco e la ricostruisco quella struttura che io vado a toccare dovrà essere rispettosa dei valori limite che sono previsti quindi se si chiede 110% bisognerà rispettare i valori limite di quella struttura vediamo un po' se c'è un'altra allora come mi devo comportare se nell'edificio riscaldato con impianto tradizionale esiste con caldaio gasolio e radiatori sono presenti prima e dopo i lavori delle stufe a legna circoscritti in determinati ambienti dove sono presenti anche i radiatori per ridigere ape ante e post convenzionale qui dove ci sono dove ci sono impianti a biomassa bisogna capire se intanto sono effettivamente da considerarsi biomassa tenete in considerazione che ci sono proprio sono proprio state fatte da questa da pochi giorni da poco tempo questa parte proprio delle circolari in merito alla definizione delle biomasse molto probabilmente sono generatori esistenti vecchi che non corrispondono a quelle che sono i nuovi dettami per considerare un generatore biomassa quindi il fatto di considerarlo può essere anche penalizzante da questo punto di vista perché in questo caso non potranno essere considerate come fonte rinnovabile quindi bisogna capire anche se questa stufa è un impianto ridondante quindi è stato aggiunto ma non è funzionale nel senso che il radiatore ce la fa da solo a sopperire al carico di questi ambienti oppure se invece è stata aggiunta la stufa proprio perché il radiatore non ce la fa garantire la temperatura quindi bisogna vedere appunto se come è configurato l'impianto quindi se l'impianto è stato integrato dalle stufe perché non ce la fa da solo oppure oppure invece è stata un'aggiunta che però non è stata fatta alla luce di un calcolo sui radiatori stessi ad ogni modo quello che mi preve sottolineare è che indipendentemente dal fatto di considerarlo o meno ricordatevi che i generatori tipo queste stufe sarà altamente improbabile siano delle biomasse combustibili ai sensi appunto di quello che è previsto ad oggi appunto come indicazione per considerare un generatore biomassa quindi fate attenzione perché i generatori per essere a biomassa devono essere rispettosi delle 5 stelle e devono avere anche altre caratteristiche molto importanti da seguire e abbiamo anche tra l'altro messo a disposizione dei riferimenti normativi eventualmente se volete approfondire ci potete contattare in assistenza e saremo lieti anche di darvi appunto questi riferimenti normativi legati alle biomasse perché sono proprio novità di questi ultimi tempi e è importante conoscerle anche questi aspetti quindi per tutti i riferimenti normativi il limite ci contattati in assistenza ve li daremo va bene è arrivato ormai l'una direi che dobbiamo chiudere qui il nostro webinar di oggi vedo che ci sono delle altre domande che mi avete fatto vi prego per chi è appunto il nostro cliente di porle appunto al servizio di assistenza tecnica in modo tale che possiamo poi più compiutamente un po' più di calma rispondere anche a questi aspetti che mi avete appunto elencato qui di seguito ringrazio tutti per l'attenzione che ci avete accordato anche oggi vi do appuntamento al prossimo webinar e vi ricordo anche che il webinar odierno è stato registrato quindi sarà poi messo a disposizione come di consueto sul canale youtube di mc4software dove potrà essere di nuovo visionato e appunto dove potrete nuovamente vedere appunto gli interventi che abbiamo realizzati insieme grazie a tutti per l'attenzione e vi auguro una buona giornata arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.